Sì, sono tanti quei bambini, questa categoria è santo nazi. Chi ha chiamato qua? Mariac Andrea, Oliveto Matteo, Maciocco Gabriele, Antonicello Marco, Agi Alessandro, Camalevi Davide, Tatini Davide. Si preparano Susano, Giorgia, Flora e Scarlet. Dopo, dopo, dopo. Alina, dopo. Adesso si preparano, preparano. Vieni qua, Giorgia. Due prese Alina, due prese Alina, sei dritta. E' dritta. Ok, ok. Ingegnero. Giorgio Prado, Scirosaico, sotto la vicinità. Ancora, ancora Alina, ancora. Sotto, tira, tira. Brava! Madaginote, l'altra. Oh, no! Azza, d'anni due! Chiesa, tra poco tocca a lei. Calandro! Vincenci Stealina! Non troppo ci. Alla cosa, c'è tira. Io ero mandata te. Lascio a te. Lo diamo a me preparare. No, no no no! No, no!